L'azienda USL Toscana Centro ha realizzato una fotografia degli stili di vita della popolazione di Empoli, Firenze, Prato e Pistoia, condotta dal gruppo Epidemiologia dello staff Dipartimento Prevenzione. In particolare è stato rilevato un aumento rispetto alle medie regionali dei consumatori di sigarette, alcol e soprattutto sostanze psicotrope e illegali, anche tra i più giovani. Per quanto riguarda il fumo, gli adulti sono circa il 25%, 2% in più rispetto ai toscani in genere, seppur sono inferiore del 4% ai forti fumatori. Preoccupanti sono i dati che riguardano i giovani tra i 14 e i 19 anni, che sono fumatori regolari in misura maggiore dei loro coetà nei toscani. Tra questi, quelli che fumano già più di 10 sigarette al giorno sono il 27% rispetto al 28% dei toscani. In linea ai valori per quanto riguarda gli alcolici, ma è positiva la diminuzione dell'abitudine e il consumo elevato giornaliero. Preoccupano le sostanze psicotrope e illegali. L'Ausla Toscana Centro è quella in cui il consumo tra i ragazzi è maggiore, 24 contro il 22%, in particolare tra i maschi. Non solo abitudine malsane, ma anche fitness e benessere al centro della ricerca. Pochi di adulti che consumano 5 o più porzioni di frutta e verdura come raccomandato per la prevenzione della salute, solo il 12%, anche se maggiore rispetto alle altre zone. Dati che sono ancora più inferiori tra i giovani, seppur ci sia un trend leggermente in crescita negli ultimi anni. Rispetto all'attività fisica, gli adulti fisicamente attivi sono un po' meno dei loro coetà nei toscani, 33% contro il 34%, con i maschi che sono più virtuosi delle femmine di un 11% in più, come accade in tutte le aree toscane. Rispetto al peso corporeo e al peso ideale per la prevenzione delle malattie, si registrano valori leggermente migliori di quelli toscani, con il sovrappeso il 27% rispetto al 28% della regione. Naturalmente tra i ragazzi il sovrappeso è meno diffuso e maggiore nei maschi rispetto alle femmine, con dati abbastanza omogenee nelle diverse zone toscane che si aggirano intorno al 15%. Il report fatto dal gruppo Epidemiologia tratta anche alcuni dati rilevanti sui comportamenti alla guida, in cui si legge che ammonta a quasi l'8% la percentuale di studenti che guida sotto l'effetto di alcol, il 6% invece dopo aver consumato sostanze stupefacenti.